Sceglie per conto suo. Come si spiega che attori, attrici, cantanti, grandi personalità che hanno milioni di followers si sono schierati dalla parte di Kamala Harris che ha perso clamorosamente? Commento. Ha perso perché un numero sempre minore di elettori non è più influenzabile dalla forma pensiero generata da questi protagonisti della società e sceglie per conto suo. È un forte segnale dell'evoluzione collettiva.